ciao buongiorno a tutti dall'italia sono fabrizio ferrari e sono lo chef del ristorante al porticciolo 84 di lecco sono un ambasciatore bergner ma soprattutto sono membro del cooking chef institute foundation creato apposta da bergner per promuovere la cultura gastronomica nel mondo e questo mi fa molto piacere e io sono con loro grazie